Io saluto ovviamente tutta la stampa presente, molto attenta al nostro lavoro, spesso più ai pettegolezzi che al lavoro, quando si entra nel merito, non temiamo alcun giudizio, però io lo dico, mi piace leggere libri che scrivono quelli che non la pensano come noi, dico di una destra che crede in una cultura pluralista e anche le trasmissioni di sinistra mi vedono, perché li vedi? Ma non ti fanno arrabbiare? No, no, mi fa per tanto piacere sentirli parlare, attaccarci perché non sanno davvero cosa dire e l'altro giorno vedevo una bella trasmissione in cui, avendo finito gli opinionisti, Formigli intervista a Floris. Vi faccio ovviamente l'imbocca al lupo per le loro rispettive trasmissioni come quelle di satira che toccano sempre in maniera profonda, la satira è fondamentale quando resta ovviamente nel rispetto delle regole e del buonsenso civile.